Il colloquio tra un papa e un premier israeliano non è classificabile come un normale incontro diplomatico e per capirlo basta leggere la dedica che Benjamin Netanyahu ha siglato sul libro che ha portato in dono a Francesco, a sua santità grande custode della nostra comune eredità. Anche il volume regalato è carico di significato. Si tratta di un testo sull'inquisizione spagnola nel XV secolo, scritto dal padre del premier, lo storico Ben Zion Netanyahu, dove si sostiene che durante il periodo dell'inquisizione i cattolici non avrebbero offeso gli ebrei. Mio padre parlava benissimo lo spagnolo, mentre il mio spagnolo non esiste, ha detto a Francesco il premier israeliano, che gli ha anche donato un vassoio d'argento ed una menora, il classico candelabro ad olio ebraico a sette bracci. Il papa ha ricambiato con una formella in bronzo raffigurante San Paolo. Cortesi a parte, i due hanno parlato per 25 minuti e i temi non possono essere stati che i negoziati tra Israele e Palestina, la guerra in Siria e il recente accordo sul nucleare iraniano. Netanyahu era accompagnato da una dozzina di persone, tra cui militare in divisa e la moglie Sara, che al momento di congedarsi ha rinnovato l'invito fatto dal marito a visitare la terra santa. La aspettiamo, non vediamo l'ora, ha detto la first lady a Francesco. Il portavoce vaticano, padre Lombardi, ha precisato che oggi non verranno annunciate le date del viaggio del papa in Palestina, ma poiché dovrebbe avvenire prima della scadenza del mandato del presidente Shimon Peres, si ipotizza che possa essere nella terza settimana di maggio. Netanyahu, dopo un colloquio col nuovo segretario di Stato vaticano, Parolin, si è diretto a Villa Madama per un vertice con Enrico Letta e cinque ministri da ogni parte, che sigleranno accordi economici, in particolare su energia, ricerca e alta tecnologia. Grazie.